Ti piacerebbe vero sapere quanto paga di cedola il nuovo BTP valore in offerta la settimana prossima? Finalmente il Ministero ha comunicato le cedole, come tradizione il venerdì a mezzogiorno le comunica, andiamo subito sul sito del Ministero, ecco qui, primi tre anni il BTP valore renderà il 4,10%, ricordo che le cedole sono trimestrali, quindi questo importo va diviso per 4 e ognuno sarà l'importo della cedola, il quarto e quinto anno 4,50% come aveva promesso uno step up ed eccoci accontentati. Avvoliamo subito ai calcoli, eccoli qua, ok? Questo è il foglio che poi vi metto a disposizione in descrizione, supponiamo un investimento di 1000 euro, allora ecco qui le cedole, primo anno 4,10, 4,10, 4,10, 4,50, 4,50, poi è previsto solo per chi lo acquista la prossima settimana e lo tiene tutti e 5 gli anni, senza venderlo, un premio fedeltà dello 0,50%, andiamo a vedere, facciamo l'ipotesi, il lotto minimo è 1000 euro, quindi potete acquistarne come minimo 1000 euro, non di più, ricordo inoltre che è solo per gli investitori retail, quindi possono acquistarlo soltanto i poveri pirla come me e te, non possono acquistarlo le banche, gli istituzionali, quindi sarà uno strumento come l'altro BTP Valor, un po' particolare, perché le cose nelle mani dei retail di solito tendono a mantenere un po' il valore, perché gli investitori retail come noi sono molto riluttanti a vendere gli investimenti in corso, anche se continuo a leggere di persone che sono stufe di BTP Italia, li vogliono vendere così a casaccio, ma poi ne discutiamo. Vediamo qui i flussi, 1000 euro di investimento iniziale, ok, prendi 10.25 di cedola lorda il primo anno, divisa ogni trimestre, vedete, io l'investimento iniziale l'ho segnato il 2 ottobre, anche se forse la data effettiva di partenza è il 9 ottobre, perché il 2 ottobre? Perché se tu vai in borsa per acquistare, non è che dici i soldi li metterò il 9 ottobre, no, 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 la banca pretende che tu li abbia già lì, quindi io ho messo il 2 ottobre, potrei mettere il 3, il 4 a seconda del giorno che volete acquistare, partirà probabilmente il 9, andiamo a vedere se il ministero ci dice qualcosa, no, non ci dice esattamente quando partirà, però possiamo supporre che partirà il lunedì della settimana dopo, terminato il collocamento, quindi 4 cedole da 10.25 lordi, ricordo che la tassazione sulle cedole dei BTP è 12,5%, quindi incassate netti 8,97, garantito, non è questo il BTP Italia che fluttua, dopodiché un altro anno così, un altro anno così, ve l'ho diviso per anno, sono stato buono, ok, e per finire gli ultimi due anni in cui incassate l'11.25 lordo, 9.94 di cedola netta, alla fine solo se lo avevate acquistato in asta, guadagnate ben 5 euro ogni mille lordi, quindi 4 euro e 38 e recuperate i mille. Grazie alla funzione XIRR di Excel, che in italiano se qualcuno volesse farsela da sola si chiama TIR.X, è il tasso interno di rendimento, possiamo calcolare nel tasso interno di rendimento che è il 4,39 lordo. Calcoliamo quello netto, di solito per far presto si calcola quello netto semplicemente prendendo quello lordo e applicando la tassazione, ma per essere molto più precisi possiamo calcolarlo direttamente sui flussi netti perché cambia un pochino a seconda di quando viene tassato, vedete l'ho calcolato sui flussi netti, ed ecco che rende un netto 3,83% annuo. Direi un rendimento di tutto rispetto. Andiamo a confrontarlo con i BTP, ci scarichiamo proprio al volo adesso da Borsa Italiana i rendimenti dei BTP simili, cioè quelli che scadono più o meno al suo periodo, vedete questo scade settembre 28, scadrà ottobre 28 l'altro, rende un 4,18%, eccolo, era giusto, li avevo scaricati ieri, ma per sicurezza controlliamo anche l'altro. Questo è un dicembre 28 invece, rende un 4,14%, ecco sì, coincidono con quello che avevo scaricato ieri. Quindi i BTP a tasso fisso attualmente sul mercato rendono 4,18%, 4,14%, questo se avete intenzione di tenerlo 5 anni e io consiglio sempre, se acquistate le obbligazioni, la vostra intenzione dovrebbe essere quella di tenere le fine a scadenza, chiaramente a meno che non acquistiate un'obbligazione scadenza 2.138, ok? La vostra intenzione dovrebbe essere quella di tenere le fine a scadenza, altrimenti siete in balia poi delle oscillazioni di prezzo. Se le tenete in fine a scadenza vi togliete da questo inghippo, lui rende, come vedete, di più 4,39%, questi sono rendimenti loro, di ricordo. Se per qualche motivo non prendete il premio a fedeltà, vediamolo a zero, rende un 4,29%, comunque rende ancora leggerissimamente di più. Il Ministero è stato furbo, io avevo previsto un 4 di cedola qui, 4 di rendimento qui e 4,5 qui, ha messo 4,10% giusto per avere quel leggerissimamente in più dei BTP che sono attualmente in offerta e per fare successo, perché il Ministero ci tiene molto a questo. Sono di fatto i soldi freschi, perché mentre gli altri normalmente sono soldi che arrivano prevalentemente agli studi di credito, qui sono proprio i soldi dei risparmiatori, soldi freschi, fa contenti gli elettori e fa contento se stesso, quindi la combo perfetta. Quindi offre un 0,2% in più. Ricordo, ah, qui in tutto questo calcolo non sto considerando l'imposta di bollo. Se volete considerare l'imposta di bollo, di fatto è uno 0,2% in meno, quindi di fatto rende l'ordo un 4,19% netto un 3,63%. Se volete considerare l'imposta di bollo, ma mi sembra del tutto superfluo perché qualunque investimento facciate, cioè ovunque mettiate questi 1000€ in un qualche investimento, ebbene sì, anche se li mettete in investimenti all'estero siete soggetti all'imposta di bollo. 4,39%. Quindi abbiamo visto che è meglio dei BTP a tasso fisso attualmente in vigore. Inoltre vi ricordo che non pagate commissioni, o meglio non dovreste pagare commissioni. Come si acquista? Si acquista direttamente su Borsa Italiana. Beh, io ho qui directa, però non posso farvi vedere come si acquista oggi, perché oggi è venerdì e solo da lunedì si acquista. Comunque entro per far vedere. Metto l'OTP 317207. Non chiedetemi codice amico di directa perché non c'è più la promozione di scontare le commissioni. Comunque basta andare sul proprio internet banking, purché si abbia accesso a Borsa Italiana. Ora, se avete un conto titoli e un internet banking, avete per forza accesso a Borsa Italiana. Su poste italiane, confesso che non so come si faccia, non ho mai avuto un conto su poste, però già lì investire diventa più difficile. Se siete degli investitori abituali, il conto in poste forse è meglio che facciate un upgrade e andiate su una banca. Ok, andiamo qui direttamente. Ok, adesso non lo troverò chiaramente, però probabilmente troverò l'altro. BTP valore, vediamo se si trova. Eccolo qui, questo è l'altro. Si compra esattamente come se fosse in Borsa. Lo compro. Soltanto con la differenza che qui c'è un prezzo che attualmente è il prezzo di mercato, voi troverete come prezzo esattamente 100, perché per tutta la prossima settimana la Borsa imporrà un prezzo fisso pari a 100. Penso che il Ministero alla fine soddisfi tutte le richieste, tanto più gente arriva, più soldi rentano in cassa, quindi più contento di così. Quindi mentre adesso c'è un prezzo limite che è il prezzo di mercato, posso decidere anche di cambiarlo, mettere un po' di più, un po' di meno, voi nel vostro internet banking troverete secco secco 100 fisso e non potete cambiarlo. E ricordo che poi il titolo non lo avrete subito, ma lo avrete dal lunedì successivo. Una piccola particolarità, durante il collocamento ha un codice ISIN o ISIN, è il codice che identifica univocamente il titolo, che è questo qui. Questo è il codice che vi dà diritto al bonus finale, quindi alla fine chi avrà il BTP valore con questo codice ha diritto al bonus finale. Se però lo vendete il codice si cambia perché diventa il codice analogo ma senza il diritto al bonus finale, quindi cambierà il codice ISIN. Quindi come il BTP valore precedente e anche come tutti i BTP Italia ha due codici ISIN, uno per chi l'ha comprato in collocamento e poi se questa persona decidesse di venderlo va prima cambiato il codice ISIN nell'altro, che è quello di chi non ha più diritto al bonus e diventa il nuovo codice ISIN. Quindi c'è questa piccola particolarità, ricordatevi se volete vendere dei BTP Italia o dei BTP valore comprati durante il collocamento perché dovete prima fargli cambiare il codice ISIN. Direct ad esempio ha una sezione apposita per fare queste operazioni, vediamo se la trovo facilmente. Ecco qui è in investimenti, operazioni speciali, conversione titoli cum e qui ad esempio io ho il vecchio BTP valore, ne avevo comprato solo mille, potrei convertirlo in quello senza beneficio finale ma non ho nessuna intenzione di farlo, intendo tenermelo fino alla fine. Vediamo adesso quanto rende rispetto ai BTP Italia. Mi sono preso i prezzi dei BTP Italia di ieri, i prezzi di BTP Italia di ieri e l'altro ieri sono crollati tutti? Eccoli qui. Il fatto è che so che per chi non è avvezza la finanza questo è difficile da capire ma il fatto che i prezzi siano crollati rende più conveniente non venderlo. Mi sembra anche ovvio a me, però per molti no, il prezzo è collato quindi vendo. No, il fatto che il prezzo è collato rende più conveniente non venderlo, tanto per darvi un'idea adesso come adesso, se l'inflazione futura e intendo ripeto perché se l'inflazione futura sarà il 2% all'anno, 2% all'anno, il BTP Italia giugno 30 con i bonus finali rende ben il 5,23 l'ordo, quindi rende di più di questo BTP valore, tutti rendono di più di questo BTP valore, se l'inflazione italiana sarà il 2% l'ordo, 2% scusate, rendono tutti, vedete 5,15, 4,65, 4,58, questi sono tutti i BTP Italia con i bonus finali. Azzeriamo i bonus finali, se per caso qualcuno volesse scegliere se comprare il BTP Italia o il BTP valore, a zero tutti i bonus finali perché chiaramente chi lo compra a mercato non ha diritto al bonus finale, vedete comunque con l'inflazione al 2%, grazie ai prezzi bassi dei BTP Italia rendono tutti più, questo qua 4,49, questi sono quelli due che rendono di meno, ottobre 27 e maggio 26 rendono solo il 4,49, il BTP valore 4,39 col bonus, questi qui 4,49 senza bonus. Chiaramente se l'inflazione invece dovesse calare ancora, cioè andare sotto il 2%, so che molti di voi stanno dicendo ma come l'inflazione è al 5, al 6? No, piano, l'inflazione è al 5, al 6 perché l'inflazione è 12 mesi al 5, al 6 ma i primi 6 mesi ha fatto 5 e gli altri 6 mesi ha fatto virgola 2, tipo, quindi al momento l'inflazione è bassa, negli ultimi 6 mesi è stata molto bassa. Supponiamo ad esempio un'inflazione, non so, all'1,2%, ecco adesso suppongo un'inflazione all'1,2%, ecco con l'inflazione all'1,2% i BTP Italia senza bonus finale rendono tutti meno di questo BTP valore, quindi se la vostra scelta è tra BTP Italia e BTP valore è un po' una scompensa sulle vostre previsioni di inflazione diciamo, tra 1 e 2 la scelta è quasi equivalente, se immaginate un'inflazione sopra il 2 BTP Italia senza dubbio, se immaginate un'inflazione sotto l'1 BTP valore senza dubbio, già come vediamo sotto 1,20 all'anno, 1,20 all'anno ricordo che è poco, è decisamente poco, forse l'unico è il giugno 30 che ci sta dietro. Chiaramente invece se avete, torno indietro completamente, se avete i bonus finali vendere il BTP Italia risulta già meno conveniente, decisamente meno, torno all'inflazione dell'1,2%, vedete col bonus finale già vedete il giugno 30 rende il 4,39%, 4,23%, sono rendimenti paragonabili a BTP valore. In generale onestamente io non trovo che sia una buona idea vendere i BTP Italia che si sono comprati prima perché adesso l'inflazione negli ultimi sei mesi è stata bassa, non avete alcuna idea, non ce l'hanno neanche i macroeconomisti, ve lo assicuro io, che ne conosco qualcuno, non avete alcuna idea di come possa andare l'inflazione nei prossimi 5 anni e avete soltanto una vaga idea ma proprio un'idea di come possa andare nel prossimo anno, quindi il mio consiglio è non mettetevi a vendere cose per comprare questo. In finanza, soprattutto nel mondo delle obbligazioni, non è che arrivano le cose nuove e sono più fighe, no, non è così, il mondo delle obbligazioni è regolato dai precisi ingranaggi come un orologio e tutto si regola e nulla vi viene regalato, cioè quando una cosa si muove si muovono anche tutte le altre. Diciamo forse l'unico regalino che vi viene fatto, guardate, è la differenza da questo 4.18 e 4.39, ma già se non lo tenete fino in fondo scende a un regalino da 4.18 a 4.29, quindi un regalino di 0.11% lordo. Quindi attenzione, non mettetevi a vendere così a destra manca BTP Italia tanto per, perché le commissioni che ci pagate, soprattutto se avete importi piccoli e commissioni fisse o importi grandi e commissioni variabili, le commissioni che ci lasciate lì sono veramente più della differenza di rendimento. Quindi BTP Valore, il governo come al solito ci ha fatto un piccolo regalino, ci ha regalato questo 0.2 in più rispetto ai BTP a tasso fisso, ricordatevi è un tasso fisso consigliato a chi non è pieno di già titoli di Stato italiani, non bisogna mai riempirsi di titoli di Stato dello stesso emittente, intende tenerlo 5 anni, non ha nessun motivo per investire più a lungo, perché più a lungo magari ci sono strumenti migliori, ad esempio investite oltre 10 anni, si può pensare a investire in azioni, quindi questa categoria di persone e non deve vendere altre cose, perché se vi mettete a vendere altre cose, vi assicuro in finanza vendere per comprare qualcos'altro ha senso soltanto se l'oggetto che vendete ha dei costi eccessivi, ma se l'oggetto che vendete semplicemente non è andato secondo le vostre aspettative, non è mai una buona idea. Bene, finalmente sono usciti, 4,10 rendimento anno i primi 3 anni, 4,50 gli ultimi 2, premio 0,50, cedole trimestrali, solo investitori retail, lotto minimo 1000 euro, in offerta in borsa, da lunedì a venerdì mattina, attenzione che il ministero potrebbe decidere di chiudere prima, difficile, dovrebbe veramente collocarne tantissimi, ma l'ultima volta è andato benissimo. Ciao a tutti e buoni acquisti di BTP Valore o quello che vi pare.